A Tortoreto il Comune è al lavoro per risolvere la delicata vicenda del complesso residenziale Belvedere. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di tornare in possesso dell'immobile. Il problema è dovuto però all'occupazione di alcuni alloggi. Per questo in attesa che il Tar decida nel merito nel prossimo maggio sul ricorso presentato da un occupante senza titolo di uno degli alloggi del complesso residenziale. L'amministrazione civica guidata dal sindaco Domenico Piccioni ha dato mandato perché venga nominato un legale che proceda davanti al Tribunale Civile per lo sgombero dello stesso alloggio. Sì esatto, stiamo lavorando già da diverso tempo. Avevamo in consiglio comunale comunque approvato un provvedimento che recepiva sì la proprietà grazie a una sentenza ma anche demandava poi l'ufficio patrimonio e quindi il settore a provvedere. Le complicanze sono dovute in parte amministrativamente e risolte con la trascrizione degli immobili ma soprattutto alcuni immobili sono occupati. Quindi abbiamo proceduto con ordinanza di sgombero, c'è una sentenza del Tar che sospende il provvedimento e quindi noi in sede civilistica procediamo comunque con il recupero dei locali. Il Belvedere è composto da 23 appartamenti, 63 fra garage, fondaci, locali, magazzino, un ristorante, un bar e altre pertinenze. Gli alloggi occupati fanno parte del complesso edilizio di Contrada Fontanelle stimato in oltre 2 milioni e 400 mila euro e confiscato anni fa perché costruito abusivamente. Ci sono diverse persone che vivono lì quindi non è solo un immobile che è occupato, noi dobbiamo comunque continuare per arrivare al possesso e quindi alla restituzione all'ente di tutti gli immobili e questo prevede anche dei passaggi, ahimè dal punto di vista giuridico, presso le sedi competenti. Una volta tornato al comune tutta la proprietà quale sarà l'obiettivo? Il Consiglio Comunale ha già deciso in merito, gli immobili fanno parte di una struttura recettiva insieme ad una piscina e anche un ristorante e quindi saranno venduti insieme attraverso l'ufficio patrimonio.